Le terapie ortodontiche con l'apparecchio fisso si suddividono in specifiche fasi. Abbiamo una prima fase di allineamento e di livellamento dove si utilizzano solitamente degli archi sottili e anche elastici, i classici nickel-titanio 0014, 0016 o anche 0018, anche se poi in alcuni casi si può ricorrere alle 0018 per 0025. In questa prima fase di allineamento e di livellamento si va ad appiattire la curva di Spee e si vanno ad allineare e allivellare i denti, cioè portarli tutti quanti in una posizione corretta sia dal punto di vista verticale che anche dal punto di vista orizzontale, quindi a livello diciamo bidimensionale. Poi c'è la fase invece di intercospidazione e di rifinitura che avviene successivamente dopo un po' di mesi ovviamente in cui si vanno ad utilizzare dei fili più duri e meno elastici, spesso si utilizza appunto l'acciaio, 16x22, 19x25, però questo tipo di filo si può usare solamente quando si è ottenuto prima un buon allineamento e un buon livellamento, pena avere effetti comunque sia collaterali. E ovviamente quando arriviamo sui fili rettangolari sarà possibile inserire anse, sarà possibile applicare elastici, sarà possibile inserire il torque e così via. Se chiaramente c'è un deficit di spazio bisognerà crearlo attraverso lo stripping e le molle compresse. Nei casi gravi, ahimè, seppur raramente, bisogna ricorrere alle estrazioni dentali. Una volta che lo spazio per cui è stato creato i denti possono essere allineati con dei fili leggeri e flessibili. Nella fase di allineamento e di livellamento si va ad appiattire la curva di spi e qui ovviamente si deve usare un tipo di filo più doppio rispetto a quello che si usa durante le primissime fasi dell'allineamento. e la rigidità conferita dall'apparecchio consente in tal modo di regolare l'overbite, cioè la profondità del morso, l'overjet, cioè la protrusione anteriore, e poi permette anche di chiudere eventuali spazi. Potranno anche essere poi eseguite eventuali pieghe sui fili, quindi specifiche anse, per ottenere specifici movimenti dentali. Potranno anche essere inseriti degli elastici per vari scopi, per correggere la seconda classe o la terza, per effettuare estrusione o intrusione di determinati elementi dentali, per centrare le linee mediane o correggere un'eventuale crossbite e così via. In alcuni casi si utilizzano degli attacchi preangolati con delle informazioni inserite nello slot, cioè nelle scanalature, come inclinazione e angolazione. In tal modo non sarà necessario modellare i fili. I sistemi preregolati, sebbene abbiano differenti limiti, presentano anche specifici vantaggi, perché abbiamo il meccanismo di scorrimento per la chiusura degli spazi, e quindi le informazioni presenti negli slot vanno praticamente a facilitare la chiusura degli spazi, semplicemente facendo scorrere gli elementi dentali lungo il filo. È una meccanica semplice, che richiede basse forze, ma permette un buon controllo del torque incisivo. La forza infatti viene applicata con gli elastici o con le molle in nickel titanio. Uno però, diciamo, degli svantaggi della tecnica del filo dritto è l'attrito che si viene a creare tra l'attacco e il filo mentre il dente scorre. La forza che si applica, difatti, deve superare questo attrito prima che possa avvenire quello che è il movimento dentale, e da qui nasce la preferenza da parte di molti odontoi altri di utilizzare tecniche low friction, cioè per esempio una tecnica di David Swaletz che io utilizzo, che è la cosiddetta tecnica straight wire low friction, cioè una tecnica a bassa frizione. Queste tecniche però sono più complesse, perché diciamo che prevedono una notevole modellazione, nonché una notevole segmentazione del filo. In tale metodica è il ritorno elastico delle anze modellate sul filo a provocare il movimento dentale desiderato, senza lo scorrimento degli attacchi sul filo, quindi senza frizione. In ogni caso, in ambedue le tecniche, durante la correzione dell'overjet, spesso sarà necessario mantenere fermi ovviamente i denti posteriori, per esempio mentre si retrudono gli incisivi superiori di una classe seconda. Si dice quindi che si deve praticamente controllare l'ancoraggio. E di qui ci ancoriamo appunto al concetto di mezzi di ancoraggio e di gestione dell'ancoraggio, che si può fare con elastici di seconda classe, con apparecchi ausiliari come la barra transpalatale e le trazioni extravalli, anche se queste ultime sono oramai cadute in disuso, perché sono obsolete. La finitura con sistemi preangolati diventa meno dipendente dalla modellazione del filo, tuttavia alla fine piccoli riaggiustaggi finali sono spesso necessari, piegando un pochettino i fili, per correggere l'estetica e la funzione. Questo può comportare quindi delle piccole modellazioni sul filo. Se serve nelle fasi finali, per esempio, correggere qualcosa al fine di migliorare l'intercospitazione, può essere anche utile tornare a fili più leggeri associati ad elastici. Bene ragazzi, io con questo video ho terminato, se il video ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace e puoi iscriverti al canale, condividendo anche il video con altri utenti, per far crescere sempre di più la community e per renderla sempre più utile per tutti.